Sono partite lunedì mattina le operazioni materiali di abbattimento del complesso popolare denominato Ferro di Cavallo nel quartiere Rancitelli a Pescara, palazzo che circonda la piazza più importante in Abruzzo dello spaccio di stupefacenti considerato il fortino della criminalità locale. A dare i primi colpi con la Ruspa sono stati il presidente della regione Marco Marzilio e poi il sindaco di Pescara Carlo Masci. Quello di oggi è un gesto di coraggio che ha servito per affrontare di petto un problema che da decenni affliggeva la città di Pescara e che era diventato nelle cronache nazionali un cattivo esempio di degrado urbano e sociale, ha detto il presidente della regione Marzilio. In questa piazza dove ci troviamo era difficile entrare persino per le forze dell'ordine. Noi abbiamo così allontanato i delinquenti e stiamo lavorando per far rinascere in questa zona un numero limitato di edifici per far sì che ci sia il controllo sociale, dando le case solo agli aventi diritto. Stiamo portando avanti un progetto di recupero per una zona che per troppo tempo ha rappresentato un problema per la città. È una giornata storica, ha commentato il sindaco di Pescara Carlo Masci. Abbiamo tenuto fede a quello che avevamo detto nelle scorse settimane. Stiamo portando avanti il progetto della riqualificazione di Rancitelli. Quando le istituzioni lavorano insieme si vedono i risultati. C'erano persone per bene in questi palazzi ma anche chi non aveva diritto a starci. Oggi eliminiamo 50.000 metri cubi di materiale e diamo nuova vita a questo quartiere. All'avvio della demolizione del ferro di cavallo in via Tavo a Pescara erano presenti fra gli altri il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il presidente dell'Ater di Pescara Mario Lattanzio, oltre ad assessori e consiglieri comunali di Pescara.